Ciao! Dopo aver visto il condensatore, vediamo cosa succede alla corrente in una bobina. Perché, come tensione e corrente cambiano in modo particolare sui condensatori a causa del campo elettrico, qualcosa di simile accade anche nelle bobine a causa del campo magnetico. Abbiamo visto, infatti, che il condensatore, appena lo si collega ad un generatore o ad un apparecchio, inizia a caricarsi o a scaricarsi in modo esponenziale. Facciamo adesso un esperimento con la bobina e un LED. Parleremo del LED in un video dedicato. Per ora diciamo che si illumina solo se colleghiamo l'anodo al positivo e il catodo al negativo. Se invertiamo collegando anodo al negativo e catodo al positivo, il LED rimane spento. Colleghiamo le pile ad un interruttore e a una bobina. In parallelo alle pile, colleghiamo un volmetro. Fin qui si tratta dell'esperimento già visto nel numero 9 del campo magnetico. Adesso però aggiungiamo un LED, collegando il catodo al positivo e l'anodo al negativo. Sappiamo già che il LED così non si illumina. Proviamo a chiudere l'interruttore e adesso apriamolo con un movimento rapido. Sembra che il LED si sia acceso. Riproviamo a chiudere l'interruttore e lo riapriamo. Cerchiamo di capire perché il LED è lampeggiato. Se il LED è lampeggiato, significa che all'anodo è comparsa una tensione elettrica positiva e al catodo una negativa. Al momento del lampeggio, però, il LED è collegato unicamente alla bobina. Dobbiamo quindi dedurre che il lampeggio sia stato causato proprio dalla bobina. Sappiamo che quando in una bobina scorre corrente elettrica, la bobina si comporta come un magnete e al suo interno si crea un campo magnetico. Ma appena la corrente viene interrotta, anche il campo magnetico viene interrotto. Abbiamo visto, inoltre, che se vale il campo magnetico all'interno di una bobina, nel filo si crea una forza elettromotrice, che cerca di impedire la variazione del campo magnetico. Quando apriamo l'interruttore, il circuito si interrompe e le cariche si dovrebbero fermare, ma in questo circuito la bobina non è d'accordo. Secondo la bobina, le cariche devono continuare a muoversi. E per fare questo, la bobina crea una forza elettromotrice appunto per impedire lo spegnimento del campo magnetico. Questa forza elettromotrice, però, deve mantenere le cariche in movimento nello stesso verso, per cui il positivo di questa forza elettromotrice si troverà al contrario rispetto a quella che ha fatto creare il campo magnetico. La corrente, inoltre, dovrà trovare un percorso alternativo, e nel nostro esperimento lo può trovare solo nel LED, che infatti si accende finché la corrente riesce a spegnersi. Con questa piccola bobina, il LED si accende per un brevissimo istante. Se interrompendo il circuito non si trova in percorso per la corrente, questa si sfogherà comunque da qualche parte, e la più probabile è l'interruttore che si sta aprendo. Quando i contatti sono separati, ma ancora abbastanza vicini, partirà una scintilla, o più precisamente una scarica elettrica tra i contatti dell'interruttore attraverso l'aria. La forza elettromotrice autoindotta, infatti, può raggiungere valori anche molto elevati, può anche superare, e di molto, la forza elettromotrice che ha originariamente creato il campo magnetico. Facciamo un passo indietro. Abbiamo visto che collegando il condensatore a delle pile, scollegandolo e poi collegandolo ad una resistenza, il condensatore ha prima accumulato energia e poi l'ha scaricata sulla resistenza. Vuoi forse dire che succede la stessa cosa anche con le bobine elettromagnetiche? Certo, papà. Anche se in un modo diverso è forse poco intuitivo. Il fatto che il LED si accenda per un istante, significa che la bobina si era caricata di energia, e appena è stata staccata dalla fonte di alimentazione, la corrente della bobina non si è azzata subito, ma è diminuita in un certo tempo. Se avessimo una bobina più potente, potremmo vedere che la stessa cosa succede anche quando viene data corrente alla bobina. La corrente non cambia all'istante, ma aumenta gradualmente, perché la bobina impedisce al campo magnetico di crescere, opponendosi alla forza elettromotrice della pila. In questo modo, la bobina lascia crescere lentamente la corrente e acquista energia. Energia che sarà poi restituita all'interruzione della corrente. Le bobine le abbiamo già viste usare come elettrocalamite e per costruire i motori. Hanno anche altri utilizzi. Certamente, anche se non sono facili da spiegare in dettaglio in un video come questo. Ad esempio, sono usate negli alimentatori degli apparecchi elettrici per fare dei filtri per ridurre le variazioni rapide della corrente o anche nei trasmettitori e ricevitori radio. Nelle vecchie auto a benzina si sfruttava questa caratteristica per generare le scariche elettriche che accendono la benzina facendo funzionare il motore. Dai 12 volt dell'impianto elettrico principale si possono ottenere alcune migliaia di volt. Ma non sempre questo effetto è voluto, anzi. Ad esempio, nei meccanismi elettromagnetici utilizzati per sbloccare le serrature o per manovrare interruttori di potenza tramite un controllo elettrico a distanza, l'autoinduzione è invece un effetto non voluto e in alcune situazioni occorre mettere un diodo che faccia lo stesso lavoro del nostro LED ed eviti le sovratensioni. Una bobina percorsa da una corrente viene anche chiamata induttore perché crea un campo magnetico, ma spesso viene usato un nome induttanza che rappresenta la quantità di flusso magnetico generata da una corrente di un ampere. Un'induttanza di un Henry genera un volto di tensione ai suoi capi quando la corrente varia di un ampere nel tempo di un secondo. Mi sa che abbiamo dato troppe formule in questo video e nel precedente. Infatti, ma dicendo queste formule e cercando per quanto possibile di dirle in modo semplice, ho voluto mostrare che ci sono molte cose da imparare nell'elettrotecnica. Con gli esperimenti pratici che ho mostrato, ho fatto vedere che anche un bambino può iniziare a capire queste cose e giocarci senza pericolo. E inoltre, in questi ultimi video, abbiamo potuto capire anche una cosa importante. Campi elettrici e campi magnetici sono cose diverse tra loro, ma hanno origine entrambi dalle cariche elettriche e praticamente da un campo elettrico può nascere un campo magnetico e viceversa. Inoltre, finché si studia un circuito sulla carta, si possono analizzare separatamente i componenti come resistenze, condensatori e induttori. Nel mondo reale, ogni conduttore ha una resistenza. Anche se piccola, ogni filo agisce anche come induttore e le superfici dei fili si comportano come le piastre dei condensatori. Magari in forma molto più piccola, ogni componente elettrico agisce sia come resistenza, sia come condensatore e sia come induttore. Adesso cosa mostriamo? Per questo video abbiamo finito. Abbiamo presentato i principali componenti di una rete elettrica, resistenza, condensatore e induttore. E abbiamo fatto degli esperimenti solo con corrente continua, quella generata dalle pile elettrochimiche. Proviamo, nel prossimo video, a parlare anche della corrente alternata, almeno per capire cosa c'è ai capi di una spina elettrica di casa. Bene, al prossimo video allora. Ciao a tutti! Ciao!